Grazie a un alto 3-0 casalingo, l'Alba Verde-Caltanissetta consolida la prima posizione in classifica. Dopo la trasferta di Gioiosa Ionica è arrivata puntuale la risposta dalla squadra nissena. Pronti via, l'Alba Verde è apparsa subito determinata, vincendo e dominando il primo set, nonostante la condizione fisica non eccelsa di alcune ragazze. Pure il secondo parziale, dopo un sostanziale equilibrio iniziale, ha preso la via di Caltanissetta. Il terzo set, invece, è stato caratterizzato da tanto agonismo con la squadra ospite Maidoma fino alla gioia finale del 26-24 che ha vidimato la terza gioia casalinga di fila dell'Alba Verde. La partita a raggi X ha visto la grande prestazione di Alessia Angilletta, top scorer con 16 punti, di Nicole Ferrarini in doppia cifra e in costante crescita dal punto di vista fisico. Più che buona l'interpretazione delle centrali Valeria Lamattina e Nicoletta De Luca. È stata anche la prima volta da titolare per Sara Miceli, con la spena sempre più verso la forma migliore, e Lorena Tilaro, presenza preziosa, al di là di una fastidiosa forma influenzale che l'ha colpita alla vigilia del match. Ottime anche le prestazioni di Mila Pruti, di Jennifer D'Antoni e di Diana Ferraloro, con la sua esperienza sempre a servizio della squadra. Dopo la quinta giornata di Serie B2, la classifica continua a sorridere all'Alba Verde, che domina da prima della classe il girone M, e continua a guardare i prossimi appuntamenti con entusiasmo, grazie soprattutto a una costante crescita da parte di tutta la squadra.